E' ospite a Macerata Monsignor Pierpaolo Felicolo, direttore della Migrantes del Lazio e di Roma, è qui a Macerata. Quale tema tratterà questa sera? Questa sera trattiamo il tema dell'immigrazione presentando il rapporto Caritas-Migrantes, che va dentro i problemi al rapporto pastorale, che affronta i problemi sotto varie sfaccettature. Dalla realtà sanitaria, alla realtà scolastica, al mondo immigratorio, sempre più attuale questo problema, ma da spiegare bene, entrarci con cura, con calma nei dettagli per poterlo capire in profondità. Il problema della migrazione può essere soltanto ridotto a un problema di paura o apre altri scenari? No, apre certamente tanti scenari, purtroppo però tante volte il minimo comune multiplo con cui si affronta questo tema è la paura, si parte dalla paura. Io credo che invece, come ha detto il Papa all'incontro di Sacrofanno delle persone che hanno offerto ospitalità, bisogna uscire dalla paura, bisogna allontanarci dalla paura e incontrare. Nell'incontro scoprire poi i scenari e non parlare dei migranti come numeri, ma dietro i numeri ci sono persone, quindi lo scenario dell'incontro con la persona e ogni persona è una storia, ed è davvero una storia di una persona che fugge per la fame, per la guerra, per la violenza, per tantissimi motivi. E allora scoprire le storie, scoprire gli scenari delle storie, delle realtà che portano a migrare e scoprendo che la migrazione non si fa, perché non lo si fa volentieri, ma lo si fa per bisogno e necessità. Grazie. Grazie. Grazie.